Presidente, eccoci qua, forse si è sbagliato ad esaltarsi troppo una settimana fa, i punti di vantaggio sono tornati 4, però non è successo nulla, nel senso che il Teramo è sempre avanti con più di una partita di vantaggio sull'Ascoli. L'ho sempre detto, non abbiamo vinto ancora niente, è un campionato difficilissimo fino alla fine, l'Ascoli ci crede, anche oggi ha vinto il 93, quindi bravi a loro, e noi dobbiamo contare su noi stessi, sulle nostre forze, oggi è stata una partita che secondo me loro hanno fatto un tiro in porta, noi il secondo tempo ne abbiamo fatto 4-5, però ci sta perché per mille ragioni, forse i calciatori già prima della partita, l'Ascoli prima vinceva, perdeva 2-0, 2-1, 2-2 e quindi anche loro come tutti noi abbiamo più pensato al risultato che alla partita. Questo ha condizionato il fatto che l'Ascoli abbia terminato la partita vincendola dopo quell'alternanza di risultati e quell'altalena di risultati sfavorevoli prima e favorevoli dopo, ha condizionato l'ingresso in campo del Teramo, cioè l'inizio della partita, mi è sembrato una squadra un po' scarica. Io credo che involontariamente abbia anche contribuito, ma a prescindere questo, noi dobbiamo pensare a domenica e quindi dobbiamo vincere, vinceremo sicuramente, perché la nostra era forte prima ed è forte adesso, e poi dobbiamo andare a vincere a Savona, quindi queste due partite per noi sono indispensabili e sicuramente sono sicuro che faremo due vittorie perché i ragazzi ci credono, sono un po' affranti perché per mille ragioni loro pensavano oggi di poter vincere, qui hanno trovato un campo molto difficile perché anche il Prato aveva bisogno di punti, e quindi, ma è giusto così, il calcio è bello per questo motivo, quindi noi continuiamo nella correttezza questo campionato perché io credo nella correttezza dei campionati e tutti quanti domenica fare il tifo per il Teramo, incoraggiare questi ragazzi perché se lo meritano, fare un pianone e domenica sicuramente questi ragazzi ci torneranno a dare una vittoria importante. Questi tifosi? I tifosi sono da dieci e lode, li dobbiamo ringraziare e ammirare perché hanno applaudito dall'inizio alla fine, sono stati corretti, quindi bravi bravi e pensiamo a domenica io non sono affatto scoraggiato, anzi, oggi sono più che mai tosto perché questa sarà per me una settimana che starò molto vicino alla squadra perché il Presidente deve essere vicino alla squadra quanto serve e caricheremo a dovere i ragazzi perché, ripeto, se erano forti e lo erano prima e lo saranno anche nelle ultime tre partite. Non è stato un Teramo un po' troppo nervoso oggi, nel senso che Vivarini si è fatto espellere in un momento caldo della gara, subito dopo il gol del vantaggio del Prato, qualche protesta di troppo? Io a prescindere da Vivarini ho visto un arbitro forse in un certo modo, arbitrato in un modo non avrà fischiato dieci punizioni e altro. Io penso che noi dobbiamo fare la nostra strada che è quella di domenica in domenica ed è quella che domenica staremo a giocarcela con un avversario che ci farà soffrire ma che noi a tutti i costi dobbiamo vincere. Ma la cosa importante è che anche l'ASCO dovrò fare le ultime tre partite. Quindi oggi, come ridevamo la scorsa settimana, non è che piangiamo. Stiamo lì, se noi andiamo a vedere 6-7 partite fa dove eravamo, quindi siamo a più 4 per noi è tanto. Non ci scoraggiamo assolutamente. Ripeto, tutti allo stadio perché domenica il termo vincerà con l'aiuto di tutti noi tifosi.